Buongiorno Tomas! Buongiorno! Grazie per essere qui so che tu hai avuto un molto lungo viaggio da Puerto Rico quindi hai avuto tre avanti per arrivare a Venice Sì, tre avanti è stato un lungo viaggio ma è buono è davvero bella notizia perché non ho aspettato per venire tu sei presentato oggi quindi molto grazie oggi stiamo presentando un'installazione di diverse fotografie che hai creato per questa esigenza identità che stiamo presentando nel Palaccio Albrizzi Capello quindi diciamo un po' più su te come artista e sulle produzione artistica e sui lavori che stiamo presentando oggi ok ok ho studiato dalla Università di Puerto Rico tre anni fa e proprio prima in l'isola abbiamo un grande huracano nel 2017 il huracano si chiamava Maria ok e c'era un grande shock per l'isola e in quel momento io lavoravo nelle strade come un giocatore per avere un income per cominciare e vivere quindi in questo periodo ho cominciato queste interazioni con le persone che vivono in questo momento e ho cominciato questa riflessione di come questo gruppo di persone e mi e il huracano rappresentano la situazione è una riflessione della società in Puerto Rico dopo il gioco del huracano quindi ho cominciato a pensare a pensare a pensare a pensare a pensare a pensare di queste persone ma ho cominciato a prendere l'immagine del huracano quando vedete il radar l'immagine del huracano sono queste colori è yellow red e orange quindi ho cominciato queste colori e ho cominciato a pensare a pensare o o o o o o questo particolare tema che hai creato un'identità del huracano sì questo è davvero originale sì hai trovato un modo di rappresentare un disastro e un monstro e un monstro in una bellissima e felicità con colori e sì sembra essere diversi portratti con diverse espressioni o diverse identità è davvero originale e cosa stai lavorando ora? a quale stai lavorando se stai lavorando nuovi works sì quando riuscò a porto rico ho un espace in uno espace in l'isola in l'isola in l'isola adentro in l'isola è l'isola un'esola più personal è il processo di essere in quarantinale e di essere in questa grande situazione del planeto sì ancora grazie per la tua presentazione e per la tua presenza oggi seguiremo sicuramente il tuo lavoro pubblicare le notizie sulle art pubblicare un'interview grazie per essere grazie a te grazie grazie grazie